Certamente e comunque è un contagio che infonde il discorso del dire fare essere che implica anche poi delle operazioni concrete per esempio il portare prima di tutto la persona a conoscere dove comincia la sua non libertà e pensa quanto è importante dire uno che magari è sempre un po' triste serio più o meno intrattabile capite ecco aiutarlo a capire che questo suo fondo depressivo e deprimente ha un'origine nella non libertà di cui stiamo parlando ora dunque aiutarlo a capire dove è la radice dov'è la mia inconsistenza pensa che servizio enorme eppure nella formazione raramente questo si fa sarebbe quello che noi chiamiamo la fase educativa prima di quella formativa no prima si educa che vuol dire si tira fuori la verità della persona ma questo servizio che è faticoso perché vuol dire un discendere agli inferi no questo servizio che non è gradevole la persona lo se già un po' è depresso di fronte a questo invito qui si deprime ancora di più e magari deprime anche l'educatore e l'educatrice e la scoraggia dal fare questa operazione e allora questo lavoro appunto non è tanto gradito e non è facile per cui molte volte l'educatore lascia perdere dunque il problema non è l'alternativa cioè non è solo contagio o pie esortazioni l'alternativa è facciamo un lavoro in profondità in profondità oppure restiamo in superficie il dramma della formazione oggi è che è formazione che ancora molte volte in superficie è superficiale noi ci ritroviamo con persone che attraversano tutto il periodo formativo ma alla fine non hanno cambiato praticamente in nulla è cambiato l'atteggiamento esteriore ma non sono cambiati i motivi le motivazioni interiori il modo di essere dentro non c'è stato questo lavoro educativo faticoso che rende la persona capace di conoscersi dunque di capire queste le radici proprio quello che diciamo nel corso no le radici di queste problematiche di intervenire su queste le radici in funzione di una maggiore libertà forse è il problema ancora del modello formativo di cui parlavamo l'anno scorso sì 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 perché secondo se il modello formativo è ancora certo certo sì sì ma questo si rifletterà in una incapacità certo certo è proprio il modello formativo in fondo no cioè vogliono dire che ci sono queste fasi prima l'educazione poi la formazione queste vuol dire avere tutta una serie di attenzioni che sono legate esattamente al modello formativo a cui il formatore si attiene sperando che il formatore abbia un modello formativo e non viva semplicemente così secondo le ispirazioni del giorno va bene infine ecco appunto ma siamo sempre in questa linea la libertà di provare i sentimenti del figlio o di desiderare i desideri di dio che è il punto d'arrivo di un cammino formativo e di formazione iniziale permanente ovvio che dopo quello che abbiamo visto questa situazione interiore cioè questa la limitazione della nostra libertà diventa poi un impedimento a provare i sentimenti del figlio pensate alla pregnanza di questa espressione avere in noi i sentimenti del figlio è una cosa molto bella finalmente anche nei documenti magisteriali si adotti questa formula per dire la finalità della vita consacrata e indirettamente anche della vita presbiterale provare a provare a provare i sentimenti non basta che tu abbia certi atteggiamenti o comportamenti esteriori e devi arrivare a cambiare i sentimenti lì dove si gioca veramente la conversione cambiare i sentimenti e per questo che appunto la formazione dura tutta la vita perché non potrà bastare se tu vuoi solo imparare dei comportamenti possono bastare così 2-3 anni ma se invece devi cambiare i sentimenti o imparare a desiderare i desideri di Dio allora ce ne vogliono ci vuole tutta la vita allora ci vuole tutta la vita va bene allora spero abbiamo dato un po' l'idea no? di che cosa vuol dire libertà relativa chiaro? dunque nessuno di noi nessuna nostra azione è espressione di libertà piena finché siamo su questa terra normalmente nelle nostre azioni c'è sempre una composizione di varie motivazioni e dunque l'esercizio di una libertà che è relativa la nostra libertà finché siamo su questa terra sarà sempre un po' parziale un po' relativa un po' ridotta e dunque questo è un atteggiamento importante per avere l'umiltà di camminare così pazientemente e capire che abbiamo bisogno di appunto por mano alla nostra formazione grazie a tutti